scheletrini si signora è pronta la pozione certamente signora sarà che ormai sono quasi le 8 e siamo ancora a casa ma finalmente la nostra pozione per dominare il mondo è finalmente pronta sono sicura che quello stolto mago ci aspetterà e quando gli avrò fatto bere la pozione sarà totalmente soggiocato da me e potrò utilizzare la sua magia assieme alla mia per creare la pozione armageddon per sterminare tutta quella feccia senza poteri e così io e la mia sorellanza saremo le sovrane indiscusse di questo posto contenti scheletrini sinceramente che cosa non so se ho sentito bene e volevamo dire certamente signora siamo felicissimi signora non ci uccide signora no oggi non ho tempo per voi oggi la mamma conquisterà il mondo allora ricapitoliamo non fare battute squallide non parlare lentamente non parlare sempre di te stesso non fare troppo complimenti e soprattutto non farla mai venire a casa mia in questa stanza fai arredare la tua cameretta da tua mamma dicevano vedrai che non sarà troppo femminile dicevano ah ma perché mia mamma deve essere convinta che io sia una donna la vita con me è proprio ingiusta vabbè dai riproviamo ancora un'altra volta il nostro discorso e poi andiamo giorgia è finito ti devi andare all'appuntamento mamma mi chiamo golem non giorgia oh cavolacci sono già le 8 e 10 devo sbrigarmi sono già le 8 e 10 e di quella strega mancò l'ombra di questo passo non avrò abbastanza tempo per farle bere la pozione devo in qualche modo velocizzare i tempi barista mi hai chiamata lei sì sì sono stata io ehi ma aspetta un secondo parli un attimino di nuovo ma che vuoi oggi c'ho la vocina un pochino rauca che si sente? questa sotto la gonna mi sa tanto che nasconde un pirulino ma vabbè lasciamo perdere non abbiamo tempo no 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 assolutamente nessun problema senta avrei un favore da chiederle guardi io sono un barista da 20 anni di favori ne ho fatti tanti a lei che serve? molto semplicemente dovrebbe mettere una pozione che le sto per dare nel drink della ragazza con cui mi sto per vedere ma guarda sei un bel ragazzo non c'è bisogno di drogarle secondo me ci riesce anche solo con la bellezza ma che cosa ha capito? assolutamente non è una droga dello stupro guardi è una pozione di occultamento oculare ho gommiato un casino con il mio amico e questa ragazza deve scambiare il mio amico per me lo so è complicatissimo ma non so come fare mi aiuti per favore fammi indovena il tuo amico è innamorato di questa tu però te la sei fatta a questa mo per sbaglio il tuo amico è convinto che stava a venire all'appuntamento con questa quando in realtà l'appuntamento è con te e mo tu siccome questo è il tuo amico non vuoi che gli si spessi il cuore anche perché tu sei un lorito stronzo che si è fatto quella che gli piaceva giusto? come cavolo hai fatto? oh ti ho detto che sto a 20 anni che faccio sto lavoro e quindi puoi o non puoi mettere questa pozione? ma si ma state tranquillo che ci pensa zietta tua risolva la situazione ehi 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 sta arrivando sta arrivando voilà eccomi qua ti sono mancata? ed ecco qui la mia strega preferita ma come hai fatto in ritardo? anzi guarda ma come interessa beviamoci su che ne dici? già vuoi bere guarda che te la do anche senza che mi fai ubriacare sai non ci credo questa sta proprio assatanata stasera mi sa mi sa che se il piano riesce Golem stasera si diverte vedo che sta in vena eh comunque no non è per farti ubriacare è semplicemente perché ho la gola secca sai e quindi magari per sciogliere un attimino il ghiaccio dai un cockley ci sta barista? oh me ha chiamato non si riferisca mai più a noi in questa maniera ok? lei barista è un lunido essere senza poteri e ci deve rispetto o otterrà da noi solo la morte oh porca miseria questa è ancora più pazza di quel che pensassi dai strega lascia stare non fa niente comunque barista si due cocktail speciali certamente mo ve li porto allora il tuo caro mago gentile eccolo qui è un attimo che provano la specialità della casa per la nostra miss strega tenga a lei strega fresco fresco appena munto di giornata e come si chiamerebbe questa prelibatezza? voi proprio sapete come si chiama? certamente si chiama catarro e lime catarro e lime mai sentito strano come nome signora barista per piacere potrebbe dirmi che anche il mio non è catarro e lime il tuo si chiama tranquillo che la pozione l'ho messa barista ma sei pazza? ma che? ma non vedi che questa è così pesa da se stessa che manco c'è stato ascoltato? ma chissà che caso sta pensando ok adesso devo trovare un diversivo per farlo distrarre così potrò mettergli la pozione all'interno del cocktail ehi mago guarda lì fuori chi c'è c'è una montagna con un papillon è davvero ridicola oh cavolacci quello è G ma sono le otto e un quarto cosa ci fa qui a quest'ora? devo trovare una scusa per uscire e avere ancora più tempo e scusami un secondo ma devo uscire perfetto è la mia occasione certamente caro esci pure ehi ciao G come mai sei qui? ciao Wiz ma che domande mi fai? sono qui per l'appuntamento non ricordi? ah si è vero l'appuntamento mi ero totalmente scordato scusami cosa? qui? ora? adesso? no me ne ero totalmente dimenticato si ma sei totalmente ridicolo con quel papillon mamma dice che sono carinissimo con questo papillon e mi spieghi di quando in qua ti fidi della donna che ha addobbato la tua camera con Barbie hai ragione ma ormai sono qui e anzi sono anche in ritardo fammi entrare prima che il mio dolce amore si stanchi e vada via eh no non puoi perché non posso? eh perché guarda sono appena arrivati l'arciere e il principe e loro ti devono dire qualcosa di molto, davvero molto importante ma che cosa avranno mai di così importante da trattenermi dal mio amore? ciao mago ho portato a termine la tua missione così come mi avevi detto contento? ma che cavolo stai dicendo? lo vedi quel tizio che sta lì ad aspettarmi? è lui golem e sarebbe dovuto arrivare alle otto e mezza non alle otto e un quarto ma che cosa hai combinato? ma che cosa mi dici? mi avevi detto che golem è un tizio di rocce che parla lentamente e quello sì è di rocce ok ma non parla di certo lentamente sì e ti avevo anche detto che aveva gli occhi del tuo stesso fottutissimo colore di capelli oh cavolo mi sa che ho combinato un pasticcio eh esatto e adesso dovete aiutarmi infatti dovete intrattenere qui fuori golem affinché io possa terminare la mia missione lì dentro con la strega amore questa cosa mi puzza e non poco però se tu avevi un incarico e non l'hai portato a termine sarà nostro dovere adesso aiutarlo hai ragione amore mio adesso andiamo e distraiamo quell'essere così vi voglio e adesso io rientro e tento di fare il prima possibile musica